Questo qua è report, porca miseria, cosa credevi ti parlassi di gossip, invece tratto solo roba seria, posti, che non si caga nessuno, la Nigeria, la Nigeria, te la ricordi per Martins che faceva quei salti, ma io voglio informarti che è un gigante, da 160 milioni di abitanti, che se ci pensi sono tanti, ma è spaccata al suo interno, al nord è un inferno, al sud è moderno, al sud hanno il greggio, e su stanno peggio perché è là, che detta legge col fuoco Boko Haram, già, cosa vuol dire Boko Haram, che il pensiero occidentale è peccato, kamikaze coi bambini soldato, il mio pensiero occidentale è turbato, bring back our turns, E' passato già un anno da quell'aprile, quando ravirono 200 ragazzine, che non accennano ancora a restituire, questi pazzi fanatici, responsabili, di migliaia di cadaveri, hanno costretto un milione a fuggire, mentre il governo non riesce ad intervenire, già, il governo, del presidente, good luck Jonathan, non ha risolto niente, su 20 nigeriani, 18, Sono sicuri che il governo si è corrotto, e per questo il 28 marzo all'elezione, per la prima volta ha vinto l'opposizione, Muhammadu Bukhari è il nuovo presidente, ma per essere chiari, so che non ve ne frega niente Se, se, R-E-P-O-R-D-I, puntata 11, direttamente dal vivo, qui nel QB Studio, BK Masterpiece P-Connection, che mi ha aiutato a scrivere questo testo, io sono Mini ma non Micro, e questo è Reporti